Il prossimo 7 marzo ha organizzato un pretest per aiutare i giovani che vorranno accedere ad alcune facoltà, tra cui la facoltà di medicina. Che iniziativa è? Con quali obiettivi le avete poste in campo? È una grande preoccupazione questa delle famiglie, dei giovani nostri diplomanti. Per entrare nella facoltà di medicina, di odontiatria, di veterinario, di architettura, oggi sono le prove ad ammissioni di concorso legate alla programmazione nazionale. Spesso entrare lì significa anche poi la possibilità di avere un lavoro futuro, quindi è chiaro che c'è un grande interesse, naturalmente in base al numero programmato e quindi anche alle disponibilità delle università, questo numero quest'anno non supera le 7.900 persone, per cui diciamo pressa poco un ragazzo su otto entra in una facoltà di medicina o in un corso di laurea di medicina. Questo naturalmente crea molte ansie perché è un concorso nazionale, ci sono delle novità dal punto di vista dell'organizzazione e noi abbiamo pensato di lanciare un'idea nuova, quella di simulare un test di ammissione vero e proprio nelle nostre aule di università alla presenza dei nostri docenti, alla presenza quindi dei ragazzi ma anche di docenti che aiutano i ragazzi a superare la prova. Questo a noi ci interessa, è completamente gratuito, ha avuto un successo enorme questa, diciamo così, iniziativa, perché la sera stessa in cui abbiamo messo il sito, la disponibilità dei posti, ne offriamo 500 posti, esauriti in una notte. Che connessione esiste fra scuola ed università? Molti indicatori rilevano come la scuola effettivamente forse non prepari al meglio i ragazzi per l'università, tanto che molti, molti ragazzi lasciano l'università al primo anno. Da questo punto di vista, voi come università, che tipo di difficoltà riscontrate? Lei ha toccato un tasto importante, il problema dell'abbandono dopo il secondo anno, il primo anno, che è un problema serio. Poi questi ragazzi delusi dall'esperienza perché non superano gli esami o quant'altro, magari poi dopo non fanno più niente. Allora su questo stiamo lavorando, c'è un progetto dell'Europa su questo, si chiama Progetto Garanzia Giovani, al quale la mia università tra l'altro ha dato un supporto importante e si candida a fare questa operazione, cioè a seguire quelle che sono iniziative del Ministero, che accompagna il ragazzo come una sorta di tutorato a scegliere, a orientarsi ed essere guidato da un tutor, diciamo così, verso quelle che saranno le sue scelte. In più, bisognerebbe aiutare i ragazzi con dei corsi che noi faremo non solo di recupero, come erano una volta, ma sono corsi per cercare di capire dov'è la difficoltà maggiore, perché è chiaro che questo divario che c'è tra l'uscita dalla scuola e l'ingresso nell'università a volte può essere controproducente. In Italia è stato comunque sottolineato da molti indicatori internazionali, c'è un numero di laureati piuttosto basso, nonostante magari generalmente si pensi che ci siano troppi laureati, in realtà i numeri dicono che invece i laureati sono più bassi rispetto agli altri paesi europei. Quanto penalizza secondo lei ciò il sistema paese? Moltissimo, perché la cultura è un fatto fondamentale, naturalmente la cultura non deriva solo dal possedere il pezzo di carto di avere la laurea, è chiaro che è un discorso più generale. Tuttavia, avere un maggior numero di laureati, ormai le statistiche ce lo dicono, nei paesi più avanzati è un dato di fatto, perché l'università non è un centro di costo, come spesso purtroppo in questo paese, in tutti i paesi del mondo è un centro di investimento, cioè bisogna investire nell'università e quindi aumentano anche le persone che investono lì, altrimenti non c'è un paese al mondo che non abbia investito nell'università e che non abbia poi creato innovazione. L'ha toccato uno dei punti forse principali del dibattito anche attuale in Italia, il discorso dei finanziamenti al sistema dell'istruzione e all'università più nello specifico che sono molto troppo bassi rispetto alla media europea. Gli ultimi dati dicono che l'Italia, ad esempio, spende annualmente oltre 250 miliardi di euro per le pensioni e solo circa 50 miliardi per l'istruzione. Tutto questo quanto penalizza il nostro futuro? Moltissimo. Guardi, io le faccio un esempio concreto che ho visto sulla mia pelle essendo rettore da tre mesi. Quando ho potuto valutare il mio bilancio dell'università con i fondi statali, le dico subito circa 170 milioni di euro all'anno. Ora, se lei considera 82% di questo, io ci devo pagare gli stipendi, che non posso ovviamente toccare. Se l'82-83 lo spendo per questo, cosa mi rimane? Vende 18-17? Ok, con questo 17% che mi rimane sui 170 milioni di euro, io ci devo fare l'edilizia, cioè costruire gli edifici, le aule, le biblioteche, pagare le riviste, andare a costruire i campi sportivi per i ragazzi, i laboratori di ricerca e naturalmente tutto ciò che sono le utenze, quindi luce, acqua, gas, aria condizionata, acqua calda e energia. Allora, lei pensa che mi può rimanere qualcosa? E quindi è chiaro che poi a volte anche il servizio è scadente. Allora, qui due sono le cose, se non ci sono più soldi e questo è assurdo, se non si tagliano altre cose e non si investe nell'innovazione e nella ricerca non ci saranno più altre possibilità, allora consentiteci di avere una maggiore autonomia e noi i soldi ce li cerchiamo, però questa autonomia deve essere vera. Le prime quattro università americane nel ranking mondiale, il 60% del loro budget viene da privati, che vuol dire che ci credono, che investono nell'università. Ecco, io vorrei convincere tutti i nostri, diciamo così, possibili operatori di imprese e quant'altro a investire nell'università, ma per far questo abbiamo bisogno di una maggior autonomia e minor burocrazia. Un'ultimissima domanda, abbiamo parlato di quello che può e deve accadere fuori dall'università in modo che le università vengano messe nelle condizioni migliori di poter lavorare. Per quanto riguarda invece la vita interna all'università, c'è qualcosa da migliorare, ad esempio anche nel rapporto fra studenti e professori? Qual è comunque da questo punto di vista una riforma interna, uno sforzo interno che anche il mondo dell'università e quindi dei docenti deve effettuare? Questo è un argomento molto molto importante, io mi sto battendo moltissimo per migliorare questi rapporti che sono spesso legati, diciamo così, da vecchie abitudini e consuetudini che ormai appartengono al passato. Cioè è chiaro che i professori devono andare in aula e fare lezione, io non faccio altro che raccomandare agli studenti di segnalarmi quei professori che non vanno mai in aula, il loro dovere è di andare in aula e parlare con gli studenti, ma soprattutto quando vanno in aula devono andarci con gli occhi contenti di fare lezione, lo studente si accorge se il professore è scocciato, fa controvoglia, non si interessa, risponde male, ecco tutto questo deve finire. Sono cattive abitudini, noi dobbiamo avere i professori che dialogano tra di loro, capire che non esiste il singolo imprenditore di se stesso, ogni professore universitario si ritiene un imprenditore di se stesso, questo è sbagliato, ogni professore deve pensare che parte di un sistema, questo sistema si chiama Ateneo, si chiama Università.